Benvenuti non dalla Siria ma dalla città vecchia di Taranto in modo particolare nel tratto compreso tra via Garibaldi e postierla via Nuova. Davvero una situazione incredibile, vedete ho al mio fianco quelli che sono i resti, i ruderi di un palazzo crollato tempo fa, anni fa e guardate un po' se questa città può dirsi una città civile, lì l'immagine è assolutamente plastica perché si vede proprio un tratto di quello che doveva essere un piano dell'immobile che sta letteralmente crollando, vedete, è in assoluta pendenza e quei resti di quel piano crolleranno a breve come è crollato tutto il resto. Vi fu il crollo, la messa in sicurezza della zona e l'amministrazione comunale ha finito il suo compito. Ha detto a questo punto, qui crolla, bene, chiudiamo, mettiamo in sicurezza la zona affinché nessuno possa davvero correre rischi e andiamo avanti. E così vedete una città vecchia che, ripeto, pezzo per pezzo crolla e rimane così. Non esiste un'idea di ristrutturazione, le ristrutturazioni esistono soltanto nei convegni, nelle tavole rotonde, nelle quali molti sapientini locali fanno sfoggio delle loro idee che poi sono idee assolutamente inconcludenti e intanto, mentre si pontifica e si parla, i resti continuano a crollare. Questa, ripeto, è l'immagine più plastica, più significativa, più immediata di quello che vi sto appunto dicendo. Guardate, è tutto dire. Una bellissima zona perché uno dice, ma abbiamo un tratto in lungomare Garibaldi fantastico, basta guardare lo scenario, lo spettacolo e poi proprio di fronte ci si imbatte in questa mostruosità. Una situazione, devo dire, che si stratifica nella città vecchia da decenni e decenni, non è una novità. Però, io ripeto, questa amministrazione può dire, ma ora noi ci siamo insediati da un anno, un anno e mezzo e tutte le colpe stanno ricadendo su di noi. No, non si intende, non si vuole assolutamente gettare la croce addosso a nessuno. Però io non vedo, non vedo una idea, un progetto di città con particolare riferimento alla città vecchia. Nessuno sta dicendo che questo immobile tra un mese così d'incanto deve essere ristrutturato e deve diventare un albergo, magari così fosse, però almeno avere un'idea e dire, creare, avere un cronoprogramma e dire tra sei mesi facciamo questo, tra un anno facciamo questo, tra un anno facciamo quest'altro. Invece qui assistiamo in città vecchia a mutilazioni su mutilazioni. Crollano i palazzi, viene mutilata la vivibilità urbana perché non si può neanche più camminare intorno e si procede così ad esclusione. Poi sento dire da qualcuno le meraviglie, la bellezza della città vecchia, le bellezze potenziali, quelle che potrebbero essere le bellezze della città vecchia, visto che lo scenario è incantevole, ma la realtà denota e fotografa un quadro orrendo. Non vi dico poi la sera, anche con la carenza delle luci, che scenario da film horror, da Castello degli Orrori si profila. Guardate, io ora ci avviciniamo verso l'affaccio al mare, vedete qui tutto transennato, una palizzata di ferro con delle transenne e qui quello che era una volta la città vecchia, quello che era un angolo di vita miseramente crollato. Non mi fa tanto paura il crollo in sé per sé, lo stato di decozione, ma ancora più triste è la situazione di buio mentale, di mancanza assoluta di progettazione, perché se non c'è una progettualità, non c'è presente, non c'è futuro. Esistono solo delle memorie storiche che vengono murate e che denotano uno stato di morte. E noi vogliamo la vita per questa città, per i nostri figli, per chi effettivamente potrebbe davvero puntare su queste zone, così come a Bari, così come a Lecce. Pensate per esempio al centro storico di Bari, che è stato completamente, radicalmente ristrutturato. Ecco, la chiusura delle finestre, dei muri, che purtroppo questa chiusura identifica anche una chiusura mentale. No progetti, no idee.